2 in mezzo al campo poi se ne andiamo errati Lupi e Chilelli ma intanto Dalcin la sua avanzata palla per Amoeda ancora Amoedo tocco all'interno dell'area lo stringe da andare all'indietro da Rocia la sua conclusione ancora Perez ma intanto è Spindola la conclusione sfida in famiglia due uomini all'interno dell'area si va all'esterno verso Biziak la sua conclusione col sinistro e arriva la rete la rete della Lazio dovrebbe essere Rocia sì perché dopo aver battuto l'angolo è stato bravo a seguire la traiettoria del tiro di Biziak si va a contentare del calcio d'angolo palla per Chilelli e poi Tiago Peres però subisce ancora una volta l'avanzata della meta e Spindola in mezzo a tre ancora Spindola si gira la conclusione palla pazza palla maledetta quella che non ha controllato Tress adesso il numero 11 torna in possesso palo clamoroso tentativo col tacco palla che viene recuperata attenzione alla ripartenza della Lazio con Lupi dietro lui c'è Rocia la conclusione di Lupi poi il tentativo di volo si chiude con il vantaggio della Lazio braccia sui fianchi per Samperi che incomincia nello stesso modo forse vuole vedere subito quale sarà la risposta da parte dei suoi dal CIN tocco al centro verso Spindola e arriva la rete il gol della meta Pedro e Spindola il pareggio della formazione etnea e dopo tanti tentativi che alla fine il fratello maggiore ha avuto ragione non ha potuto niente due uomini in barriera per Tiago Peres lui a creare volume parte Bisec per Chilelli barriera Amoedo non la tiene stavolta l'attenzione perché può ripartire la Lazio ancora Amoedo scivolata tre contro uno il dribbling di Biscossi la conclusione la rete il gol della Lazio Biscossi in percussione centrale un po' più deludente la meta che adesso prova a rispondere e arriva subito il gol del pari Carmelo Musumeci e Spindola anticipo forte poi tre sono uno due ancora e Spindola il dribbling di Spindola tocco al centro Musumeci ed è una doccia gelata per la Lazio uno due clamoroso di Carmelo Musumeci che da due passi non può sbagliare Dalcini rientra verso il centro Dalcini la finta ancora Dalcini sul sinistro la rete il gol di Duda Dalcini a sei minuti dal termine del match la meta accelera in maniera importante sinistro di Duda Dalcini prima la finta poi il tiro sul secondo palo Dalcini davanti a Bijak Chilelli gioco con la suola poi il tocco verso Biscossi giro palla perfetto l'errore poi la conclusione di Hernani poi si pagano e Spindola Dalcin la finta ancora Dalcin angolo intervento determinante di Spindola poi Dalcin che trova nuovamente Spindola in mezzo al campo il fallo subito dal numero 28 doppio giallo per Lupi e Lazio costretta all'inferiorità numerica da parte della Lazio in uscita sfrutta velocemente la battuta e poi arriva la rete di Hernani anche lui può festeggiare quest'oggi a un minuto e cinquantotto arriva stavolta veramente nella parola fine palla sotto le gambe e non è la prima volta di Spindola gli applausi del palo a Catania mancano otto secondi ormai praticamente è finita con la Lazio che si arrende una Lazio però viva una Lazio che ci ha provata fino all'ultimo e adesso arriva la sirena si conclude col parziale di 5 a 2 che si che si è finita